Guadagni da YouTube, hai una partita IVA, è stato semplice, è stato complesso queste sono solo alcune delle tantissime domande inerenti a questo argomento che mi fate sia in privato sia dal vivo quando ci vediamo e così ho scelto di raccontarvi un po' la mia storia fiscale se non è un argomento abbastanza complesso con il supporto dei ragazzi di Fiscozen di cui vi parlerò più avanti durante il video Benvenuti e bentornati nel canale, io sono Nicola Sagliano e ultimamente siete abituati a vedermi tantissimo parlare di tastiere custom ad esempio lei, la Zoom 65 dell'ultimo video però non è sempre stato così, questo canale è nato tanto tempo fa per esigenze diverse tutto è nato con l'arrivo in Italia degli smartwatch Amazfit, in particolare l'Amazfit Space il primo video su questo canale infatti è una mia ROM Custom per questo smartwatch ormai 6 anni fa è passato davvero tanto tanto tempo in quel periodo avevo già aperto un mio sito web dove pubblicavo delle guide per questi smartwatch ma non era abbastanza, mi serviva un supporto in più per spiegare le guide in modo migliore così scessi di aprire YouTube il mio sito è ancora disponibile con tutte le guide ma non lo sto più aggiornando per mancanza di tempo in futuro ho intenzione magari di fare un restyling e introdurre un po' di argomenti nuovi dopo il primo anno e mezzo di contenuti circa ho avuto l'esigenza di contattare un commercialista perché i numeri su YouTube erano ancora piccolini, il numero di visualizzazioni, gli iscritti non erano numeri enormi e forse non avevo neanche attivo AdSense ancora che sono introiti pubblicitari che arrivano quando c'è un'interruzione pubblicitaria dentro il video però arrivavano i primi guadagni con le affiliazioni come succede ancora adesso c'erano dei link sotto i miei video, nelle guide che portavano all'acquisto di questi smartwatch e ad ogni acquisto io ricevevo una commissione all'epoca principalmente era Gearbest, store cinese che adesso ormai è andato un po' in disuso e Amazon che ancora adesso è il canale principale di affiliazione anche nel mio canale Telegram dove le offerte principalmente ormai si dedicano solo ad Amazon bene, qui nascivano i primi dubbi come dì di chiaro, devo aprire partita IVA, posso fare ritenute da conto, io all'epoca già lavoravo era un po' un casino quindi via, sono andato a girare tantissimi commercialisti qua della zona e nonostante fosse già il 2018 non era così facile avere risposte precise la figura del content creator non era inquadrata non che adesso sia super super mega inquadrata però diciamo che all'epoca era ancora meno vista trovavi dei commercialisti che proprio ti dicevano una cosa e un altro ti diceva l'altra c'era chi mi diceva che fino a 5.000 euro potevo fare classica ritenuta da conto c'era chi mi diceva no, non puoi farlo perché le pubblicità di AdSense, le pubblicità del tuo sito sono costanti, i video di YouTube sono costanti, sono sempre visibili e quindi si perde una delle caratteristiche per fare la ritenuta da conto, ovvero il lavoro occasionale non c'è l'occasionalità in queste cose perché sono sempre presenti quindi diventa un lavoro fisso, quindi ci vuole partita IVA normale in mezzo a tutta questa confusione sono riuscito ad aprire la partita IVA tornassi indietro avrei prenotato una chiamata con gli esperti fiscali di Fiscozen e in pochissimi minuti mi sarei tolto un sacco di dubbi sull'apertura della partita IVA e sarei stato molto molto più tranquillo questa prima partita IVA che ho aperto era una partita IVA a regime forfettario cosa vuol dire? per farla breve è un regime fiscale agevolato che prevede delle semplificazioni sulla gestione della partita IVA e un'aliquota fissa del 15% su una parte del fatturato che dipende dal proprio codice Ateco che indica il tipo di lavoro di mansione che andremo a svolgere nel mio caso era ed è il 731102 ovvero l'attività di pubblicazione di campagne pubblicitarie che è la cosa che si avvicina di più a quello che facciamo per guadagnare su YouTube con questo codice Ateco avevo un coefficiente di redditività del 78% cosa vuol dire sto parolone? vi faccio un esempio che è molto più facile di mille spiegazioni proviamo ad avere dei ricavi per 1000€ con questo coefficiente di redditività noi dobbiamo considerarne il 78% quindi 780€ questo sarà il nostro reddito imponibile su cui possiamo calcolare la nostra aliquota del 15% ovvero 117€ che saranno le tasse che noi andremo a pagare in realtà c'era un'ulteriore agevolazione per i primi 5 anni dato che era la prima partita IVA l'aliquota non era del 15% ma solo del 5% quindi era un regime molto molto comodo per partire spese basse, il commercialista costa molto meno oltre a tutto questo c'è anche tutto il discorso dell'IMS che è un po' più complesso perché dipende se viene considerato un professionista o un commerciante a livello fiscale io avevo una situazione che mi permetteva di essere esente dalle spese IMS perché avevo e ho tuttora un lavoro full time e i ricavi del lavoro full time superano quelli della partita IVA quindi l'IMS era già pagata dal mio datore di lavoro tutto questo può sembrare complicato soprattutto se è la prima volta che affrontate questi discorsi e ragionamenti ma un consulente come Fiscozen può rendervelo molto più semplice e studiare esattamente il vostro caso specifico perché purtroppo ognuno di noi ha una situazione fiscale diversa e in base a quello bisogna capire come approcciarsi per non commettere errori va anche detto che non tutti possono aderire al regime profettario ci sono delle regole precise per rientrare in questo regime agevolato e queste regole tendono a cambiare spesso con le varie leggi di bilancio e io ne ho pagate le conseguenze, vi racconterò più avanti data questa mia prima esperienza con la partita IVA mi capitava di gente che mi chiedesse consigli e io gli davo e raccontavo cosa avevo fatto eccetera ma poi mi rendevo conto quando tornavano a dirmi come era andata che per ogni persona diversa c'era qualche cavillo diverso perché la situazione fiscale di ognuno di noi è diversa e il modo migliore per chiarirsi l'idea è quello di affidarsi a un consulente fiscale come Fiscozen che possa prendere visione di tutta la tua situazione e consigliarti la scelta migliore per la tua attività lasciando i dati nel link in descrizione un consulente fiscale vi contatterà che vi risponderà a tutte le domande in modo gratuito e senza impegno troverete anche un coupon sconto di 50 euro sul primo anno di gestione qualora scegliessere di affidarvi a Fiscozen felice e un pochino preoccupato dell'apparatura della partita IVA ho continuato la mia avventura sui social con tanti alti e bassi l'argomento con cui era nato il canale Amazfit stava andando pian piano a calare l'interesse per politiche dell'azienda cambi di direzione e anche io mi ero un po' stancato così ho iniziato a parlare più spesso di gadget di telefoni, di informatica argomenti che già portavo sul canale ma in modo molto più marginale i guadagni non sono mai stati particolarmente alti avendo dei numeri piccolini qua sui social però anche tutte le spese di gestione, i costi vivi delle attività erano molto pochi quindi mi permetteva di continuare tranquillamente rimanendo praticamente in pari tra spese e guadagni con un unico problema che spesso ritornavo ovvero non riuscivo a capire mai quanto dovessi pagare di tasse era sempre difficile calcolarlo finché sono rimasto nel regime profettario era complicato ma ancora fattibile da quando sono passato all'ordinario è praticamente impossibile riuscire a capire in anticipo quante tasse devo pagare solo una macro stima motivo per cui Fiscozen offre una dashboard completa con tutti i dati fondamentali le scadenze dei pagamenti e tutte le stime delle tasse da pagare oltre offre una sezione dedicata alla fatturazione dove possiamo creare le nostre fatture anche elettroniche e caricare le nostre spese se il nostro regime permette di scaricarle sempre sull'app poi sarà possibile trovare anche la dichiarazione di redditi compilata trovo l'app ben strutturata a tutto quello che serve ed è curata in tutte le sue parti e questo insieme alla possibilità di contattare via chat, email, telefono, il tuo commercialista dedicato per qualsiasi dubbio mi ha portato a scegliere a questo inizio 2023 di fare un passo importante come quello di valutare il cambio di commercialista sto facendo fatica a gestire la pressione di non sapere quante tasse da pagare avere uno strumento che me le monitora mi aiuterebbe davvero tantissimo a capire quando è il momento giusto per spendere nel rinnovare qualcosa per il canale o quando è meglio aspettare perché ci sarà una tasse importante da pagare fermi, so già che qualcuno dirà ah, sei passato all'ordinario quindi stai guadagnando un sacco di soldi per aver fatto questo salto dal forfettario all'ordinario purtroppo non è così come vi accennavo prima le leggi purtroppo cambiano su una manovra di bilancio hanno introdotto un nuovo vincolo per il forfettario ovvero di non guadagnare più di 30.000 euro lordi da dipendente e quindi questo vincolo mi ha fatto escludere dal forfettario nonostante guadagnassi pochissimo della partita IVA sono stato costretto a prendere una decisione importante considerate che era gennaio 2021 il canale non stava andando particolarmente bene non avevo una direzione chiara su che contenuti portare mi ero un po' stancato iniziamo ad esserci anche le prime notizie della Cina sulla pandemia ancora se non era assolutamente nulla di quello che poi si è scatenato e in mezzo a tutta questa situazione avevo una scelta da fare o chiudere la partita IVA forfettaria e basta smettere di fare contenuti o di passare all'ordinario stringendo i denti vi vedete qui a parlare quindi sì ho fatto il passaggio all'ordinario con costi decisamente più alti con un sacco di vincoli in più il canale in questa ultima anno è cresciuto tantissimo lo devo tutto a voi che guardate questi video mi hanno permesso di realizzare dei contenuti molto interessanti dei progetti nuovi che sto portando avanti per questo 2023 ho voluto raccontarvi questa parte del mio percorso per dirvi che se avete un progetto un'idea la voglia di fare non fatevi fermare dal primo ostacolo la partita IVA spaventa sempre all'inizio ma non deve essere una scusa per rinunciare a qualcosa che vuoi fare soprattutto ora che ti sta possibilità di toglierti ogni dubbio sull'apertura della partita IVA con un consulente come Fisco Zen dove puoi chiedere tutte le consulenze fiscali di cui hai bisogno e senza impegno trovi il link per la consulenza gratuita in descrizione e il coupon nicolasayano50a che vi lascio comunque sempre in descrizione per avere 50 euro di sconto sul tuo primo anno di gestione vi ho raccontato il mio percorso ma mi piacerebbe che nei commenti mi scriviate il vostro percorso e se avete domande o dubbi lasciatele nei commenti che io o i ragazzi di Fisco Zen vi andremo a rispondere dovete sapere tra l'altro che non è la prima volta che parlo sul canale di partita IVA perché poco dopo che ho aperto partita IVA mi è arrivato un mega scam dove volevano fregarmi 300 euro e vi ho raccontato tutto in un video che vi lascio qui se volete approfondire l'argomento perché purtroppo c'è anche quel lato oscuro delle partite IVA e se invece volete continuare la visione con il mondo dei tastieri vi lascio la playlist con la tastiera per due la serie dove sto facendo provare tastiere custom per la prima volta alle persone noi ci vediamo a un prossimo video